E' una partita difficile, sapevamo della difficoltà, l'Atletico di Madrid è una squadra molto tosta e quindi abbiamo sofferto il secondo tempo, però nel primo tempo abbiamo fatto delle belle giocate e credo che dobbiamo prendere spunto da questo primo tempo e mantenere. Adesso, la prossima partita contro Carabà, dobbiamo sicuramente fare il risultato perché gioca Chelsea, l'Atletico di Madrid, uno dei due, o pareggiano o perdono. Quindi sarà importantissima la vittoria a Carabà, sicuramente ci dà fiducia e tutto quanto. Cosa ha detto di quello di Madrid rispetto a voi? Non credo niente, perché oggi è rimasto 0-0, io mi fido della mia squadra, posso parlare sempre della Roma perché abbiamo dimostrato che possiamo fare bene con tutte le squadre. Avete cominciato a 4 e finito a 3 in difesa, è un modulo a 3 che potete riproporre? Sicuramente, il ministro ci ha provato che così dà più libertà a Bruno Perez e a Kolarov e avere più copertura, come è Faso e Manolas. Abbiamo dimostrato che anche se cambiamo il modo di giocare, abbiamo creato anche tanto. C'è stato un calore di 5 dopo il 70? Io credo sì, perché abbiamo perso un giorno di lavoro che non abbiamo fatto con la Samp e tu perdisci spazio, perdisci un po' di lavoro perché comunque la partita ci aiuta anche con il fiato, con il fisico e credo che può essere questo. È importante fare bene, aiutare la squadra, sono stato il migliore in campo, ho detto per voi, però io penso sempre aiutare i miei compagni dentro di campo e anche loro mi hanno aiutato questa sera sempre a sporcare le palle pulite dei tiri degli avversari, quindi è sempre importante avere la squadra giochendo insieme, anche insieme da me che sono lì da solo quasi sempre, però è sempre importante per noi. Alisson, il presidente Ballotta ha detto grande Alisson, lo vedo anche dimagrito. Quanto è importante avere il presidente vicino a queste partite così? Sì, è importante per noi, questo aiuta la squadra, è importante avere tutti vicini da noi, anche i tifosi hanno fatto bene questa sera. Speriamo di fare sempre un grande spettacolo a loro, al presidente e anche principalmente per noi che lavoriamo tutti i giorni e arriviamo sulle partite per vincere sempre. Può dare fiducia dopo la sconfitta con l'Inter, anche in chiave campionato? Diciamo che sì o che no, perché noi sappiamo quello che abbiamo fatto di buono dentro il campo anche con l'Inter. Abbiamo preso dei gol nel momento in cui abbiamo mollato un po', oggi non abbiamo mollato mai sulla partita. eravamo un po' stanchi, ci sta, però non abbiamo mollato un secondo, quindi questo conta tanto per non prendere gol e anche pareggiare una partita o vincere. Alisson, cosa manca ancora alla fase difensiva della Roma? Penso che dobbiamo sempre lavorare, gli avversari hanno anche qualità, qualche volta ci sta di chi loro tirano in porta, devo essere pronto sempre lì per fare il migliore per la mia squadra, quindi questa sera hanno avuto qualche occasione, dobbiamo stare un po' più attenti, lavorare sempre di più per arrivare al più alto livello possibile. Quale è la vostra prestazione nella tua carriera? È stata una bella prestazione, penso che parlando di Champions League, sì, può essere la migliore partita, però ce ne sono tante partite da giocare per la Roma.